CONFESSIONI DI UNA DONNA E' bellissima. Posso ben dirlo oggi che nulla resta di quella bellezza. L'amore era per me la vita della mia anima, come l'aria e la vita del corpo. Avrei preferito morire piuttosto che vivere senza tenerezza, senza qualcuno che mi rivolgesse sempre ogni suo pensiero. Le donne pretendono spesso di amare una sola volta con tutta la forza del loro cuore. Spesso mi è capitato di adorare qualcuno con tanta passione da credere impossibile che il mio sentimento potesse spegnersi. Eppure anche questi amori finivano in modo naturale, come un fuoco rimasto senza legna. Oggi voglio raccontarvi la prima delle mie avventure, nella quale io non fui minimamente coinvolta, ma che provocò tutte le altre. L'orrenda vendetta di quel tremendo farmacista di Peck mi ha fatto tornare in mente il dramma spaventoso di cui sono stata testimone mio malgrado. Da un anno ero maritata con un uomo ricco, il conte Hevre de Kerr, un bretone di antica famiglia, a cui naturalmente non volevo bene. L'amore, quello vero, ha bisogno, secondo me, di libertà e di ostacoli contemporaneamente. L'amore comandato, con le sanzioni di legge e le benedizioni del prete, è, vero amore? Un bacio legalizzato non ha il sapore e il valore di un bacio rubato. Mio marito era alto e elegante, un vero signore nei modi, ma era stupido. Parlava con decisione, esprimeva convinzioni affilate come lame di coltelli. Si capiva bene che era gonfio di frasi fatte, di opinioni precostituite, messe lì dal babbo e dalla mamma, che a loro volta le avevano ereditate dagli antenati. Non aveva mai esitazioni, su ogni questione dava un parere immediato e limitato, senza il minimo imbarazzo e senza capire che poteva esistere un'altra maniera di giudicare le cose. Era evidente che la sua testa era chiusa, priva di idee, di quelle idee che rendono sempre nuova la mente e sempre più vigorosa, come una ventata che attraversa una casa con le porte e le finestre spalancate. Il castello in cui abitavamo sorgeva in una zona deserta. Era un gran fabbricato triste, inquadrato da enormi alberi, le cui escrescenze muschiose facevano subito pensare alle barbe canute dei vecchioni. Il parco, una vera foresta, era circondato da un profondo fossato, di quelli che in altri tempi erano insuperabili difese. E nel fondo, dal lato dell'Alanda, c'erano due grandi stagni pieni di canne palustri e di vegetazione fluttuante. Sui bordi del ruscello che li univa, mio marito aveva fatto costruire tra i due stagni un cavanno da caccia per sparare alle anetre selvatiche. Tra i nostri domestici fissi c'erano un guardiano, una specie di brutto devoto a mio marito sino alla morte, e una camerista, quasi un'amica, affezionatissima a me. L'avevo portata dalla Spagna cinque anni prima. Era una trovatella. Poteva sembrare una zingara a causa della carnagione scura, gli occhi cupi, i capelli fitti come alberi in una foresta e sempre irti sulla fronte. Aveva sedici anni, ma ne dimostrava venti. Eravamo all'inizio dell'autunno. Andavamo spesso a caccia, qualche volta nei nostri possedimenti, qualche volta in quelli dei nostri vicini. In quell'occasione mi colpì un giovane, il barone d'Ess. Le sue visite al nostro castello si fecero molto frequenti. Poi a un certo momento cessò di farsi vedere, e io non pensai più a lui. Ma mi resi conto che mio marito si comportava con me in modo inusuale. Sembrava taciturno, preoccupato. Non mi baciava più. E per quanto non entrasse mai in camera mia, che avevo voluta separata dalla sua per poter restare sola, udivo spesso la notte, un passo che si accostava alla mia porta e dopo un po' si allontanava. La mia finestra era al pian terreno, e varie volte mi sembrò di sentire qualcuno aggirarsi attorno al castello, nell'oscurità notturna. Lo dissi a mio marito che mi guardò fisso per qualche istante, poi mi rassicurò. Non è niente, è il guardiano. L'agguato. Una sera stavamo finendo di cenare, quando Hervé, che contrariamente al solito pareva d'umore gaio, di un'allegria un po' sorniona, mi domandò, «Mi piacerebbe passare tre ore a far la posta a quella volpe che ogni notte ci viene a mangiare le galline?» Rimasi sorpresa. Esitavo. «Ma poiché egli mi guardava con sospetta ostinazione, risposi, certamente, caro!» Devo aggiungere che andavo alla caccia del lupo e del cinghiale proprio come un uomo, e perciò la proposta di quell'appostamento era naturalissima. Mio marito diventò improvvisamente nervoso, e per tutta la sera non fece che agitarsi, alzandosi e risedendosi di continuo. Verso le dieci mi chiese a bruciapelo, «Siete pronta?» Mi alzai, e poiché mi stava porzendo il mio fucile chiesi, «Lo debbo caricare a palle o a pallini?» Sembrò sorpreso e disse, «A pallini basterà, siatene certa!» Poi dopo un istante aggiunse, con uno strano tono di voce, «Potete vantarvi di avere un bel sangue freddo!» Mi mise a ridere. «Io? E perché? Sangue freddo per ammazzare una volpe? Che cosa c'entra, amico mio?» E così, senza rumore, attraversammo il parco. Tutta la casa dormiva. La luna piena pareva avesse dato una mano di giallo al vecchio edificio scuro, su cui luccicava il tetto di Ardesia. Le due torrette laterali erano macchiate di luce nella parte più alta, e nessun rumore turbava il silenzio di quella notte chiara e triste, dolce e pesante, che pareva morta. Non un brivido nell'aria, né un verso di rospio di civette. Su ogni cosa pesava un lugubre torpore. Quando raggiungemmo gli alberi del parco sentì una gran frescura insieme all'odore marcio delle foglie morte. Mio marito non diceva nulla, ma restava in ascolto, spiava. Sembrava volesse frugare nel buio, tutto preso dalla passione della caccia. Presto arrivammo sulla riva degli stagni. La loro capigliatura di giunchi non si muoveva, nessuna brezza raccarezzava, ma sull'acqua correvano fremiti appena percettibili. Da allora si muoveva un piccolo punto sulla superficie acquea, e da quello partivano cerchi leggeri, simili a striature luminose, che andavano man mano ingrandendosi. Quando arrivammo al capanno, dove dovevamo appostarci, mio marito mi fece entrare per prima, poi armò lentamente il fucile, e quel rumore secco mi diede una strana emozione. Hevra sentì questo fremito e chiese «Forse questo vi basta? In tal caso andate via!» Molto sorpresa risposi «Niente affatto, non sono venuto qui per andarmene, ma sapete che questa notte siete davvero strano?» Mormorò «Come volete, ma restammo immobili». Dopo quasi mezz'ora, poiché niente turbava la pesante e limpida tranquillità notturna, sussurrai «Siete sicuro che passerà di qui?» Hervé sussultò come se lo avessi morso, posò la bocca sul mio orecchio. «Sono sicuro, capite?» Il silenzio ricominciò. Stavo per assopirmi quando mio marito mi strinse un braccio. La sua voce sibilante, mutata, scandì lentamente. «Ecco! È là! Sotto gli alberi!» Per quanto guardassi non riuscivo a vedere niente. Lentamente Hervé imbracciò il fucile, continuando a fissarmi negli occhi. Ero pronta anch'io a sparare quando ecco apparì a trenta passi davanti a noi un uomo che avanzava a passi veloci nella radura illuminata dalla luna, col corpo inclinato in avanti come se stesse scappando. Rimasi così stupita che mandai un grido, ma prima ancora che potessi voltarmi, una fiamma mi passò davanti agli occhi, uno sparo mi rintronò nelle orecchie e vidi l'uomo rotolare a terra come un lupo impallinato. Mandai strida acutissima, spaventata, quasi impazzita. Allora una mano furiosa, quella di Hervé, mi afferrò alla gola. fu rovesciata a terra, poi sollevata dalle sue braccia robuste. Correva tenendomi sospesa in aria verso quel corpo disteso sul prato. Mi buttò su di lui con violenza come se avesse voglia di spaccarmi la testa. Mi sentii perduta, stava per ammazzarmi. Già aveva alzato il tallone sulla mia testa quando anche lui venne a sua volta afferrato, rovesciato, senza che potessi rendermi conto di quello che stava succedendo. L'alzai di scatto e vidi inginocchiata su mio marito la mia cameriera pachita, la quale, aggrappata lui come una gatta infuriata, convulsa fuori di sé, gli strappava i capelli, i baffi e la pelle del viso. Poi, come presa da una diversa idea, si rialzò e si gettò sul cadavere dell'uomo, l'abbracciò con forza, gli baciò gli occhi e la bocca, spostando con le labbra quelle altre labbra gelide. cercandovi il respiro, il bacio appassionato degli amanti. Conclusione. Mio marito rialzato si l'osservava, comprese e cadde ai miei piedi. Perdonami, cara, ti ho sospettata e ho ucciso l'amante di questa ragazza. Il guardiano mi ha tratto in inganno. Io guardavo gli strani baci della viva al morto e i singhiozzi di lei e i suoi sussulti di disperata passione. Da quel momento capì che sarai stata infedele a mio marito. a mio marito. A mio marito a mio marito a mio marito Grazie.